Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito Taiwan facendo almeno un morto e una ventina di feriti. Il sisma ha provocato anche danni materiali. Diversi edifici hanno tremato nella capitale Taipei e la scossa è stata avvertita fino a Hong Kong, a più di 700 chilometri dall'isola, che è spesso colpita da terremoti.